buongiorno buongiorno con le stelle io sono monica amarillis e questa è la mia rubrica astrologica per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato scrivi a info chiocciola monica amarillis.com buongiorno cari amici buona settimana siamo nella settimana che dal 24 al 30 luglio 2023 e vediamo cosa ci porta astrologicamente parlando questa settimana gli eventi rilevanti in realtà ce n'è solo uno ed è l'entrata di mercurio in vergine che avviene venerdì 28 luglio alle 23 e 31 ora legale mercurio rimarrà in questo segno un paio di mesi perché in questo segno nella vergine inizierà anche il suo moto retrogrado che inizierà il 23 agosto e poi quindi sempre nel segno della vergine riprenderà il moto diretto e uscirà da questo segno il 5 ottobre quindi insomma si tratta di due mesi abbondanti tutto agosto settembre qualche giorno di ottobre e qualche giorno di luglio si tratta dell'unico evento rilevante però ovviamente i nostri pianeti continuano a procedere continuano a girare quindi vedremo cosa succede a tutti i segni però è interessante che mercurio rimanga in questo segno a lungo tra l'altro la vergine è un segno governato da mercurio quindi le doti le qualità di mercurio vengono sicuramente amplificate ovvero l'analisi la percezione l'attenzione alle piccole cose alle minuzie l'abilità tecnica la precisione vi ricordo che mercurio governa due segni i gemelli e la vergine e nel segno della vergine sono amplificate le capacità tecniche tecnologiche di revisione anche diciamo di contabilità tra virgolette di capacità di avere a che fare con i numeri con la precisione mentre nei gemelli è rafforzata soprattutto la capacità comunicativa che viene un po meno nella vergine che è un segno diciamo un po più timido non ama mostrarsi venire fuori con decisione ovviamente per i prossimi due mesi quasi e mezzo insomma due mesi un po più di due mesi tutte le persone che appartengono o hanno valori nei segni di terra quindi vergine capricorno e toro ma anche cancro e scorpione saranno facilitate soprattutto nelle loro modalità appunto di attenzione di riuscire avere concentrazione di riuscire a percepire ad accorgersi di quello che succede intorno a loro saranno rafforzate e comunque anche le capacità dialettiche e argomentative quindi questi sono i segni che avranno maggiori benefici dal transito di mercurio nel segno della vergine mentre invece attenzione a chi appartiene a pesci sagittario e gemelli perché avranno purtroppo carenza di attenzione di concentrazione di capacità di rendersi conto delle piccole cose e anche a livello comunicativo potrebbero incorrere in gaff in malintesi eccetera a livello globale diciamo a livello macro il fatto che anche mercurio vada ad associarsi a marte che sta già transitando nella vergine mi fa pensare che avremo un momento in cui sto pensando la guerra in ucraina sembrerà che l'ucraina finalmente abbia un po il prenda il sopravvento però secondo me si tratta di un trend momentaneo che durerà un paio di mesi sapete che si parla da tempo della famosa controffensiva ucraina nei confronti dei russi e a livello astrologico vengono attribuiti dei segni alle nazioni anche se ovviamente si tratta di guardare al quadro più ampio e i dettagli possono sfuggire in questo senso però astrologicamente viene attribuito il segno del sagittario agli stati uniti quello dei gemelli alla cina quello dei pesci alla russia e secondo molti astrologi l'ucraina potrebbe corrispondere proprio al segno della vergine adesso che c'è marte e poi anche mercurio per due mesi nel segno della vergine insomma la capacità aggressiva e di risposta potrebbe aumentare però vi ricordo che il segno dei pesci che corrisponde alla russia è invece molto ben sostenuto e momentaneamente l'opposizione di marte e di mercurio potrebbe creare dei problemi ma alla lunga la russia è più favorita rispetto all'ucraina e anche rispetto agli stati uniti in questo momento e vi ricordo che o meglio vi informo se non lo sapete che urano entrerà nei gemelli tra un paio d'anni e quindi alla fine di tutto questo bailamme di insomma la nato ovviamente spalleggiata dagli stati uniti che vuole spingere tutti quanti alla guerra per indebolire la russia e la cina in realtà la cina sarà quella che otterrà maggiori vantaggi da questa situazione nel giro di qualche anno questo ovviamente lo dico guardando i transiti astrologici poi potrei sbagliarmi perché è sempre molto difficile riuscire a fare delle previsioni in questo senso però tra qualche anno ci saranno un sacco di pianeti nei segni d'aria quindi sarà plutone in acquario urano in gemelli e nettuno entrerà in ariete che invece un segno di fuoco ma è pure favorevole ai gemelli quindi diciamo che secondo me la cina uscirà vincente nei prossimi anni da questi confronti internazionali ma sicuramente vedremo tantissimi tantissimi cambiamenti nei prossimi 10 12 anni ma ci arriveremo con calma intanto guardiamo noi alle nostre piccole cose e quindi anche a com'è la situazione per i vari segni ricapitolo dicendovi dove si trovano in questo momento i vari pianeti sono plutone retrogrado che passa dai 29 ai 28 gradi del capricorno nettuno sempre retrogrado è a 27 gradi dei pesci urano e sui 22 gradi del toro saturno anche lui retrogrado va dai 6 ai 5 gradi dei pesci mentre giove passa dai 12 13 gradi del toro marte transita dagli 8 ai 12 gradi della vergine venere ha iniziato domenica scorsa il suo moto retrogrado nel leone era 29 gradi del leone e arriverà a 27 gradi sempre del leone a fine settimana mercurio inizia la settimana a 23 gradi del leone quindi avremo 5 giorni in cui ancora i segni di fuoco sono favoriti da questo transito di mercurio ma appunto venerdì entra nella vergine e a domenica fine settimana sarà già a 2 gradi della vergine mentre il sole che anche abbiamo visto entrare nel segno del leone domenica arriverà da 1 a 7 gradi del leone la luna inizia la settimana in bilancia e la finisce nel segno del capricorno allora il sole nel leone non abbiamo parlato settimana scorsa porta proprio questa questa spinta verso la vitalità e il vitalismo solare il leone è proprio governato dal sole che è il nostro luminare e quindi è il massimo della potenza solare in termini vitalità crescita calore generosità ovviamente questo è un transito che ricarica tutti i segni di fuoco quindi ovviamente il leone e auguro buon compleanno a tutti i leoni ma anche sagittario e ariete e questo transito beneficia anche bilancia e gemelli riscaldando e vivacizzando le giornate degli appartenenti a questi segni ma piccola avvertenza perché ogni tanto vedo poi dei commenti dire ah ma io sono di quel segno sembra sia tutto bello invece vada schifo ebbene dovete controllare se nel vostro tema natale magari avete solo il sole in questo segno e magari avete altri pianeti in segni che invece ricevono delle dissonanze e quindi correggono la situazione in modo diverso rispetto alle previsioni generali che sono necessariamente generali generalistiche per il segno perché prende in considerazione solo il segno quando il nostro tema natale è formato da tutti i pianeti quindi abbiamo delle posizioni dei pianeti che possono correggere in modo molto forte l'appartenenza al nostro segno solare quello dove si trova il sole al momento della nascita che è ovviamente il nucleo della personalità però se appunto una persona ha il sole in capricorno ma in questo momento dove ci sono transiti un po difficili per l'acquario a mercurio venere e magari anche altri pianeti nel segno dell'acquario ebbene vedete che le cose si modificano alquanto quindi l'importante è sempre conoscere il vostro tema natale sapete sapere dove avete i vostri pianeti in quali posizioni in quale grado in quale decade perlomeno in modo da sapere da poter correggere poter sentire anche magari la previsione per l'altro segno per gli altri segni interessati in modo da avere più o meno un'idea di come andranno le cose per voi a livello emotivo a livello energetico a livello relazionale detto questo passiamo alla previsione per i vari segni cominciando come sempre dalla riete riete che per i primi cinque giorni della settimana ha ancora mercurio favorevole quindi sicuramente tutti gli scambi sia intellettuali che di comunicazione vanno molto bene soprattutto se appartenete alla terza decade e la terza decade è anche facilitata dal transito positivo di venere quindi sicuramente a livello relazionale a livello affettivo c'è un momento felice un momento favorevole anche il sole porta i suoi raggi benevoli soprattutto sulla prima decade che quindi viene comunque rivitalizzata riscaldata e in questo momento non ci sono veri e propri transiti pesanti per la riete a parte come lo dico mai da un bel po chi è nato negli ultimi due tre giorni del segno che ha a che fare con la dissonanza di plutone che porta alla luce quelle che possono essere le domande fondamentali poi dell'essere umano può essere un transito importante dal punto di vista appunto esistenziale porta a chiedersi che cosa voglio fare veramente qual è la mia motivazione cosa mi spinge nella vita cosa devo fare quindi può mettere in crisi profondamente perché magari si sta aderendo a uno stile di vita che non corrisponde profondamente al proprio vero io ecco il plutone se porta sempre a galla la verità alla fine anche se può essere un transito difficile pesante dove si richiede di lasciare andare delle cose può portare un po di depressione ma proprio perché in realtà ci si comincia a rendere conto che forse abbiamo intrapreso una strada che non ci corrisponde davvero e quindi possiamo con l'aiuto di un transito anche tra virgolette negativo correggere la direzione della nostra vita emotivamente la settimana forse non inizia diciamo al massimo perché la luna sarà nel segno opposto lunedì e martedì e quindi anche qui potrebbe portare in superficie i nodi emotivi relazionali che potrebbero essere quelle cose che ci spingono però anche ad agire e sicuramente sono le giornate un po più critiche poi la situazione migliora e il weekend invece sarà trascorso alla grande con la luna in un segno in un sogno favorevole alla riete nel sagittario quindi da venerdì fino a tutta domenica bizzarritevi divertitevi insomma non abbiate pensiero perché potrete veramente trascorrere questi tre giorni alla grande il toro con il transito di mercurio a marte nella vergine viene invece rafforzato l'unico neo per il toro è il passaggio dei pianeti leone quindi il sole venere che però può rappresentare solo qualche piccolo fastidio qualche malinteso qualche flessione nell'umore nella vitalità che dura però veramente qualche giorno e invece il toro abbiamo giove urano e poi abbiamo il favore di mercurio vabbè da venerdì in realtà non prima quindi chi appartiene alla terza decada del toro per i primi cinque giorni potrebbe sentire ancora qualche fastidio relativo alla comunicazione ai malintesi che potrebbe portare mercurio dissonante dal segno del leone ma poi le cose migliorano abbiamo visto che per due mesi andate alla grande con mercurio positivo marte positivo alla seconda decade alla fine della prima e all'inizio della seconda decade mercurio appunto comincia a avere un effetto positivo nel weekend su chi appartiene alla prima decade e avete anche il supporto dei pianeti in pesci quindi saturno sempre che sostiene la prima decade e aiuta a realizzare progetti importanti duraturi quindi per esempio se dovete comprare casa appartenete alla prima decade del toro questo momento positivo chi appartiene alla seconda decade avrà qualche colpo di fortuna con giove presente sui gradi della nascita mentre chi appartiene alla terza decade a parte appunto qualche fastidio magari comunicativo con urano presente sui gradi della nascita ha un po la spinta verso il fare verso l'azione e verso anche rivoluzionare accelerare le cose le giornate critiche per voi sono quelle che vanno dalla sera del martedì fino a tutto giovedì perché la luna sarà nel segno opposto e diciamo che le altre giornate a livello emotivo sono piuttosto neutre quindi attenzione solamente a quelle giornate da martedì a giovedì i gemelli per i quali abbiamo visto nella anticipazione che ho fatto relativa alla cina in realtà vale per tutti gli appartenenti ai gemelli tra un paio d'anni avranno veramente uno sviluppo incredibile perché avranno urano nel loro segno saturno e nettuno positivi plutone positivo insomma ci sarà veramente una fioritura che durerà anni però nel frattempo dovete avere pazienza e cercare di frenarvi non azzardare diciamo i progetti importanti o mosse troppo improvvisate perché non è questo il momento infatti avete contro saturno se appartenete alla prima decade e avete contro anche mercurio e marte perlomeno mercurio da venerdì e marte già già da un paio di settimane quindi attenzione al nervosismo attenzione agli scatti attenzione all'umore che va su e giù la prima decade viene comunque diciamo salvata dal sole che passa in posizione favorevole mentre la terza decade ha il supporto di mercurio fino a venerdì e quello di venere comunque quindi le relazioni i flirt estivi la vita di coppia viene comunque vivacizzata in modo piacevole positivo se appartenete alla seconda decade non avete grandi transit a parte quello di marte a partire da metà settimana appunto un po' pungente quindi attenzione agli scatti e alla voglia di litigare per il resto se non avete pianeti in altri segni ecco sarà magari un periodo un pochettino noioso a livello emotivo la luna passa in un segno a voi favorevole lunedì e martedì le giornate sicuramente migliori della vostra settimana attenzione al momento in cui la luna sarà in sagittario ovvero nel segno opposto da venerdì a domenica quindi cercate di non reagire in modo eccessivo di non attaccare briga con gli altri il cancro ora non ha pianeti che stanno transitando sui suoi gradi però riceve un sacco di aspetti positivi a quelli dalla vergine in cui si aggiunge appunto mercurio nono marte che ravviva vivifica energicizza dona più grinta agli appartenenti di prima e seconda decade giove e urano dal toro che portano dinamismo ottimismo espansione a seconda e terza decade e saturno nettuno dai pesci e saturno si occupa della prima decade portando un'energia costruttiva di determinazione di capacità di andare avanti nel tempo portare avanti i propri progetti mentre nettuno aiuta quelli della terza decade ad avere più fantasia e creatività quindi sicuramente un periodo molto positivo questo dove potete rimettervi in gioco e costruire per il futuro attenzione devono fare solo coloro che sono nati negli ultimi due tre giorni del segno perché c'è sempre la dissonanza di plutone e vale quello che ho detto prima per la riete quindi è in realtà un'occasione per verificare se le scelte del passato ci stanno conducendo sul progetto di vita che è veramente nostro ci corrisponde in modo autentico oppure se stiamo deviando e quindi plutone porta quella crisi che ci permette di correggere il nostro percorso la crisi è sempre un'opportunità però sappiamo che quando si presenta una crisi non è mai facile affrontarla quindi dobbiamo tirare fuori le nostre capacità migliori e soprattutto la nostra sincerità dal punto di vista emotivo le giornate no sono lunedì e martedì mentre puntate sulle giornate di metà settimana quindi in realtà dal martedì sera fino al giovedì sera perché avrete chiarezza mentale nella vostra mente nel vostro cuore e insomma l'energia sarà tutta a vostro favore il leone ha il sole che passa nel proprio segno quindi appunto è la rivitalizzazione annuale che in questa settimana tocca alla prima decade mentre la terza decade vede il passaggio di mercurio e di venere sui propri gradi quindi comunque anche la terza decade sarà favorita soprattutto dal punto di vista relazionale quindi degli affetti delle amicizie sarà la seconda decade quella un pochino più svantaggiata perché non ha in questo momento aspetti favorevoli e invece riceve la dissonanza di giove che quindi porta a dubitare delle proprie capacità potrebbe far sentire un po' demoralizzati e portare anche a comportamenti compensatori come acquisti spropositati o mangiare troppo bere troppo eccetera prima decade è quella più tranquilla e più sostenuta mentre la terza decade riceve sì degli aspetti di mercurio e di venere ma anche la dissonanza di urano che rende quindi un po' instabili un po' irrequieti con la voglia di cambiare ma senza sapere bene dove veramente si vuole andare cosa veramente si vuole fare emotivamente la settimana non va affatto male soprattutto lunedì e martedì con la luna in un segno positivo la bilancia attenzione dal martedì sera al giovedì perché la luna sarà dissonante quindi potrebbe portare alla luce tutte le cose spiacevoli emotive i dubbi mentre dal venerdì a domenica luna in sagittario quindi in un segno fraterno e quindi la settimana si chiude in bellezza cari leoni la vergine abbiamo visto riceve un bel po' di aiuti supporti astrali quindi ha ricevuto marte quindi con una dose di energia di entusiasmo anche un po' di aggressività maggiore comunque sicuramente la capacità di tener fronte alle sfide che possono esserci nella vita di tutti i giorni ma anche mercurio a partire da venerdì viene a dare una mano alle vergine per un paio di mesi e non è affatto male questa cosa perché tutte le vostre qualità migliori verranno rafforzate nel frattempo avete sempre a che fare con l'opposizione di saturno quindi alla prima decade chi di voi è nato nella prima decade può sentire pesantezza ci possono essere ostacoli o comunque maggiori responsabilità da doversi assumere chi è nato nella terza decade ha sempre l'opposizione di nettuno che confonde le idee rende un po indecisi sul da farsi sicuramente quelli della seconda decade sono favoriti dal bel transito di giove ma anche chi è nato all'inizio della terza decade ha la spinta del transito di urano che appunto porta a fare a intraprendere nuove cose insomma siete molto stimolati nel bene e nel male ma siete comunque spinti ad andare avanti e non rimanere fermi dove siete quindi questo è sempre positivo settimana molto positiva perlomeno dal lunedì al venerdì con le giornate migliori a partire da martedì sera a tutto giovedì attenzione al weekend e anche al venerdì quindi al venerdì a tutta domenica perché la luna in sagittario potrebbe farvi girare un po le scatole e quindi potreste scattare per un non nulla perché vi sentite provocati la bilancia riceve il bel transito del sole quindi questo va a dare in manforte a chi è nato nella prima decade si sente rivitalizzato sicuramente mentre venere continua a fare il suo lavoro di supporto a chi è nato nella terza decade portando armonia nelle relazioni e anche correggendo il famoso transito difficile di plutone perché è nato negli ultimi due tre giorni del segno che come abbiamo visto anche nel caso del cancro e della riete porta un po a rivedere le proprie scelte di vita fondamentali però l'influenza di venere proprio su questi ultimi giorni del segno può invece portare una sorta di armonizzazione una correzione per cui sicuramente state cominciando a vedere il futuro come vorreste che fosse il vostro futuro e a prendere quindi le decisioni di conseguenza altri transiti importanti non ce ne sono soprattutto la seconda decade è un po spoglia di transiti quindi nel bene nel male non c'è nulla che avvenga da un lato questo può portare un po di noia ma va bene anche che non succeda niente tutto sommato come si dice nessuna nuova buona nuova la luna nel vostro segno lunedì e martedì in segno contiguo quindi neutro per voi da martedì da scusate da martedì sera a giovedì mentre sarà in un segno amico da venerdì tutto venerdì sabato domenica quindi sicuramente il weekend sarà passato sarà trascorso molto bene molto serenamente lo scorpione accoglie con gioia il passaggio di mercurio nel segno della vergine che è un segno alleato allo scorpione il sole dissonante potrebbe portare qualche flessione nella vitalità di chi è nato nella prima decade ma cose di poco conto mentre venere nel dissonante la terza decade può portare qualche confronto con le persone amate quindi attenzione alle discussioni subite sempre la posizione di giove e urano quindi anche qua confusione sui propri scopi sui propri obiettivi e magari voglia di buttare di rasare a zero tutto quanto e ricominciare da capo per chi di voi appartiene alla prima decade invece saturno aiuta i progetti di lunga durata quindi a costruire a pensare al futuro a pensare in modo lungimirante e chi è nato alla fine della terza decade ha come alleati nettuno e plutone quindi con una carica creativa molto forte luna positiva per tutta la settimana e nel vostro segno da martedì sera a tutto giovedì quindi potete almeno contare sulla stabilità delle vostre emozioni del vostro umore per una settimana vivace interessante il sagittario ecco l'acquario tra i segni meno favoriti dello zodiaco in questo momento diciamolo perché il passaggio di marte e di mercurio nel segno della vergine non fa piacere al sagittario anzi rende molto nervosi molto instabili a livello di comunicazione di concentrazione e anche emotivamente non è il massimo inoltre il sagittario riceve la dissonanza di saturno quindi questo per quanto riguarda la prima decade e di nettuno per quanto riguarda la terza decade la seconda decade è quella che rimane un po' più tranquilla ecco solo da metà settimana chi è nato all'inizio della seconda decade può sentirsi un po' nervoso però tutto sommato la seconda decade è quella più tranquilla rispetto alla prima o alla terza per fortuna la luna è dalla vostra parte questa settimana quindi inizia bene con lunedì e martedì la luna è una bilancia un segno amico passa poi nello scorpione che è per voi neutro e poi nel sagittario da venerdì alla domenica quindi sicuramente sono queste le giornate su cui puntare da venerdì tutto venerdì tutto sabato e tutta domenica la luna in sagittario porterà alla luce i vostri lati migliori e anche la voglia di stare insieme agli altri di socializzare cercate di tenere abada il nervosismo o anche l'umore un po' giù perché saturno insomma deprime un po' ma anche mercurio dissonante martedì sonante insomma non sono il massimo fate quello che potete cercate di stare su perché l'ottimismo è la vostra qualità migliore cari sagittari e arriviamo al capricorno che va veramente alla grande questa settimana perché il passaggio dei pianeti nella vergine aiuta anche il capricorno che in questo momento diciamo non ha rivali allora che cos'ha il capricorno dalla propria parte saturno prima decade mercurio e marte prima decade la seconda decade ha dalla propria parte giove quindi con un'espansione una certa fortuna e la terza decade riceve il sostegno di urano di nettuno e di plutone quindi insomma non c'è nulla che vada male il capricorno ovviamente lo ripeto sempre che non si abbiano poi degli altri pianeti in in altri segni che invece ricevono dissonanze dai pianeti in transito e quindi ovviamente la situazione viene corretta ma è anche giusto un po una giustizia dello zodiaco in questo senso no che da da una parte magari toglie dall'altra insomma per rendere le cose un pochino più eque comunque in generale il capricorno riceve quindi tutti questi sostegni e non ha neppure una dissonanza emotivamente la luna passa solo in un segno non favorevole lunedì e martedì ma poi dal martedì sera sarà in segni favorevoli e quindi anche dal punto di vista emotivo c'è una stabilità una tranquillità veramente invidiabile l'acquario abbiamo visto che insomma non è tra i segni favoriti perché c'è la dissonanza di giove urano che colpisce seconda e terza decade e quella di venere di mercurio solo fino a venerdì e però anche quella del sole per quanto riguarda la prima decade quindi un po di stanchezza che viene fuori diciamo la verità fisica e mentale un po di mancanza di motivazione e la sensazione soprattutto di essere sfortunati di non avere dalla propria parte la fortuna e quindi di essere un pochettino pessimisti anche per voi come per i gemelli i prossimi anni in realtà saranno molto positivi molto fertili però dovete ancora resistere un pochettino di tempo è come andare in fondo al pozzo per risalire con i tesori ma la discesa nel profondo nel buio può essere un po faticosa emotivamente ottime le giornate di lunedì martedì e del weekend da venerdì fino a tutta domenica attenzione alle giornate centrali da martedì sera a giovedì con la luna dissonante quindi l'umore un po di traverso per i pesci per i quali andava tutto molto bene fino a poche settimane fa adesso le cose si sono un pochettino ridimensionate perché con il passaggio di marte nel segno opposto e poi anche di mercurio a partire da venerdì ecco non sarà più tutto così rose fiori come prima attenzione quindi soprattutto al nervosismo agli scoppi di rabbia alla disattenzione e alle gas avete comunque sempre molti supporti saturno vi aiuta a costruire cose nel lungo periodo nettuno aiuta la vostra creatività giove assicura fortuna espansione alla seconda decade e urano anche una bella inventiva una bella dose di intraprendenza per chi è nato nella terza decade quindi semplicemente attenzione alla stanchezza a non lasciarvi andare a dei momenti di nervosismo che magari si stanno accumulando dal punto di vista emotivo quindi dal punto di vista dei movimenti della luna le giornate migliori sono da martedì sera a tutto giovedì mentre attenzione dal venerdì alla domenica perché lì potrebbero venire i nodi al pettine e appunto potreste creare o subire potreste ricevere delle tensioni a livello relazionale quindi con il vostro ambiente con chi vi è intorno e con questo ho concluso anche questa settimana e anche questa settimana vi auguro di trascorrerla bene di tirare fuori il meglio da voi a qualsiasi segno apparteniate e ci vediamo settimana prossima e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola monicaamarillis.com ciao